Buongiorno innanzitutto e grazie dell'invito. Allora, il mio intervento cercherà di essere il meno possibile politico e il più possibile capace di spiegare come sono andati e come stanno andando i lavori all'interno della Giunta per il Regolamento. Io, penso, circa due mesi fa o poco più ho incontrato i due esponenti di Open Parlamento con i quali ho avuto modo di trattare questi argomenti che sono diventati un articolato ora depositato che ora molti di noi, tra cui anche il sottoscritto, presenteranno in Giunta. Da allora, anzi era già in corso, forse non passano più di due mesi, un comitato informale costituito da sette membri, nominati dal Presidente Boldrini, che doveva iniziare un lavoro ampio che riguardasse la ristrutturazione di tutto quello che è il regolamento della Camera. Quindi una vera e propria riforma importante che incidesse, che desse snellezza e comunque che migliorasse tutto questo. Io ora cerco di farla breve perché il discorso in alternativa sarebbe molto ampio. Io ho appoggiato sin da subito questa attività di introdurre trasparenza e certificazione anche all'interno dei lavori delle commissioni e l'ho fatto all'interno di questo comitato informale, dove tutte le forze politiche erano presenti. Purtroppo non ho avuto ascolto, queste richieste non hanno avuto ascolto, per i motivi bene o male che sono stati detti poco fa dall'amico Vittorio, ovvero sia per il troppo costo, ad esempio per l'inserimento nei banchi, chiamiamoli così, delle commissioni, di strumenti di votazione elettronica o perché non si trovava la necessità politica di rendere resoconti stenografici e quindi completamente coincidenti con le parole espresse in commissione ingiunta degli esponti politici, appunto durante i lavori che non fossero di assemblea. Anche in questo caso venne riportata come scusante l'eccessivo costo del resoconto stenografico. Questo è un piccolo passaggio, un lavoro ampio avvenuto all'interno di questo comitato distretto, che poi è arrivato poche settimane fa, mi sembra il 12 dicembre, in giunta per il regolamento, dove la maggioranza ha depositato un articolato. Noi del Movimento 5 Stelle, io in particolare come membro della giunta, ho sottoscritto l'articolato di Open Parlamento, dopo averlo portato avanti come detto prima, l'hanno fatto altre forze politiche, è una contraddizione politica, nel senso che discusso questa richiesta di riforma nella sede opportuna, qual era quella del comitato, che vedete bene i lavori non potranno essere scorporati, cioè la parte della trasparenza e certificazione da tutto il resto, perché, come volontà della Boldrini e come è stato accettato dalle forze di maggioranza, l'allora maggioranza dell'argentese, l'obiettivo era di portare una compiuta organica e globale, ristrutturazione e riorganizzazione del regolamento. Dedico 5 minuti a non entrare ovviamente nel merito specifico tecnico, ma a quello che è la rappresentazione di questo articolato di circa 150 pagine che va a toccare circa i due terzi degli articoli del regolamento. La premessa era, diamo qualità alla produzione legislativa, modernizziamo la... Diamo qualità, la premessa era, diamo qualità alla funzione legislativa. Parto da una premessa, oggi sono l'unico esponente qua tra gli invitati, perché i lavori parlamentari sono talmente mal organizzati e raffazzonati che è impossibile per un parlamentare oggi fissare un appuntamento qualsiasi domani o dopodomani, o un minchimeno dopo una settimana, perché è talmente veloce e disorganizzata, ma non lo devo dire a voi ovviamente, la gestione di lavoro all'interno del Parlamento che di conseguenza diviene impossibile. Si sta votando in aula, oggi entro le 13, bisogna depositare emendamenti per una legge di poca importanza, per il livello democrazia, cioè la legge elettorale. Testo di legge elettorale depositato in commissione alle 17 di venerdì. Per farvi capire, alle 17 di venerdì è stato depositato un testo che arriva fuori dal Parlamento, che non è mai stato discusso in commissione, luogo preposto alla funzione legislativa, e sabato, domenica e lunedì alle 13 c'è il termine per gli emendamenti. Questo esempio, anzi questo fatto, è un esempio che descrive benissimo il modo di lavorare in Parlamento. Torniamo. Qualità, la funzione della qualità della legislazione, e di conseguenza intervenire su di un miglioramento. L'effetto che la modifica, l'articolato, che ora, entro poche settimane, anzi pochi giorni, si spera qualche settimana, dovrà essere emendato, cioè quella bozza di riforma del regolamento depositato alla maggioranza, dovrà essere emendato di qui a pochi giorni. Addirittura è già stato calendrizzato per l'Aula la riforma del regolamento per febbraio. Stessa cosa la legge elettorale, pochi giorni per fare delle riforme talmente importanti che hanno ripercussioni talmente rilevanti nella vita quotidiana di tutti i giorni, anche se la gente non lo sa, per poi trovarsi semplicemente nell'obiettivo di dire abbiamo fatto la riforma, non guardiamo un merito, disinteressiamoci, entriamo nella storia per di aver fatto qualcosa. Poi ci ritroviamo tra pochi mesi, aver capito, molti l'hanno già capito perché l'obiettivo è chiaro, dire abbiamo fatto pessima riforma e interveniamo nuovamente. La conclusione, l'esito di quell'articolato di riforma è molto grave, è un vero e proprio attacco, non uso mezzi termini, nel senso che non sono, credetemi, valutazioni di natura politica, sono valutazioni di natura tecnica. Nel senso che se la funzione legislativa, di fatto, ma non diciamo di diritto, è spostata già dal Parlamento al Governo con una decretazione d'urgenza folle, io sono parlamentare da circa dieci mesi, undici mesi, non abbiamo mai approvato una legge d'iniziativa parlamentare, ma sulla decretazione d'urgenza, cosa viene fatto all'interno di questa bozza di riforma? Accanto alla decretazione d'urgenza, si crea un istituto ad hoc, che è un disegno di legge a corsia preferenziale, che viene inserito nel procedimento d'urgenza. Da oggi in capigruppo cosa si fa? Si vota l'urgenza di un provvedimento, e come dice l'articolo 81 del regolamento, invece che durare 60 giorni di lavoro in commissione, durano 30 se è un provvedimento ordinario, o 15 se è una decretazione d'urgenza. Accanto a questo strumento di accelerazione, viene inserito in questa bozza di riforma un'incredibile accelerazione ulteriore, ovvero sia, oltre a votare in capigruppo l'urgenza di un provvedimento, si vota la data in cui viene votato. Cioè, indipendentemente dalla portata normativa del provvedimento, si dice, oggi 1 gennaio votiamo l'urgenza e il 31 gennaio si vota. Capite bene come viene data un'accelerazione, un nascosso ovviamente in negativo, alla qualità della produzione legislativa. Perché permetterebbe, a questo punto del governo, perché si sposta completamente dal Parlamento al governo e neppure la maggioranza del potere legislativo. Perché definire un tempo chiamato ghigliottina, non esiste nessuna democrazia, non è nessuna forma di governo di natura parlamentare, questo strumento, esiste in Francia, ma non è una forma di governo, siamo nel semipresidenzialismo, inserire questo passaggio, cosiddetto ghigliottina, zittisce pure i membri della maggioranza, i quali possono, evidentemente, grazie a Dio con la democrazia, ci sono varie anime anche all'interno dello stesso partito, le anime contrapposte alla linea governativa vengono zittite dal fatto che in quella determinata ora, in quella determinata giorno, si vada a votare. Ma si potrebbe dire addirittura questo, in realtà viene messo a fianco di questo passaggio, già gravissimo per i livelli della democrazia, altri due semplicissimi passaggi. Un'accelerazione incredibile delle discussioni in aula, nel senso che viene dimezzato tutta la discussione generale, viene eliminata la fase centrale della discussione, cioè la discussione sugli articoli, sul complesso di emendamenti, vengono dimezzati i tempi delle dichiarazioni di voto e viene enormemente limitato la possibilità di intervento a qualsiasi livello, per richiami a regolamento, richiami sull'ordine di lavoro che vengono tutti posti al termine della votazione. Un altro fattore, vengono eliminati praticamente gli ordini del giorno, viene limitato moltissimo l'attività di sindacato ispettivo perché diventa una prorogativa del governo dire ok hanno importanza, rispondiamo, sindacato ispettivo oppure possiamo non rispondere. Ma la parte più pericolosa è lo snellimento della questione di fiducia, cioè la questione di fiducia ha un valore costituzionalmente garantito, è data per un certo motivo, le 24 ore date dalla posizione della questione di fiducia servono alla politica alle almeno 24 ore, non alle 24 ore ed un minuto che effettivamente capitano in Parlamento, per dare alla politica la possibilità di confrontarsi, di ascoltarsi e di trovare delle soluzioni politiche condivise. Ebbene, la questione di fiducia posta evidentemente sui decreti legge viene snellita, nel senso che oggi non si debbano più attendere 24 ore e diventa un vero e proprio momento della votazione. Di conseguenza, voi pensate, l'esempio potrebbe essere se prima decreto legge, se prima c'era un'autostrada con qualche curva dove il governo incassava l'immediata vigenza di una legge e dopo poco incassava anche il voto in Parlamento, oggi questa autostrada con qualche curva è un'autostrada sempre completamente dritta, nel senso che il governo ottiene la vigenza di una norma e non ha queste curve nel senso che non è più possibile fare ostruzionismo e la questione di fiducia può essere posta senza l'attesa delle 24 ore perché diventa una fase normale della votazione e soprattutto scavalca sia gli ordini del giorno che le dichiarazioni di voto, oggi invece si vota e dopo ci sono queste ulteriori fasi. Il tutto è giustificato dal fatto che si dice o meglio si accusa il regolamento o meglio la lentezza e la farraginosità del regolamento come causa della cattiva produzione delle leggi della lentezza della produzione delle leggi qualsiasi dato scientifico prova che l'Italia in rapporto comparato con gli altri stati o è migliore produciamo circa due o tre volte in più leggi della Francia e della Germania della Francia e della Gran Bretagna oppure è in linea con gli altri paesi quindi è sbagliato e lo dicono in molte figure istituzionali importanti dire è colpa della farraginosità dei regolamenti appunto il motivo in realtà la lentezza nella produzione di alcune leggi è dovuta ai disaccordi che ci sono all'interno della maggioranza o tra la maggioranza e il governo ecco in questo quadro sicuramente le richieste di inserimento nel regolamento portate a Open Parlamento e da noi appoggiate verranno portate avanti noi ad esempio abbiamo chiesto anche l'accessibilità ai precedenti cioè il precedente è quel momento nel quale ad un eventuale richiamo al regolamento per mancanza di rispetto a detta di qualche minoranza potrebbe non essere vero di un passaggio regolamentario di un diritto dell'opposizione si si fa regolamento e la Presidente prende un precedente per dare risposta a questo richiamo cosiddetto al regolamento evidentemente in quel momento il Presidente assume una fonte del diritto molto alta io sempre in questo comitato ristretto ho chiesto e poi concludo e ringrazio ho chiesto la possibilità che tutti i parlamentari abbiano accesso ai precedenti in modo tale da equiparare le fonti del diritto di permettere a un parlamentario di un gruppo che fa una richiesta di verifica del rispetto al regolamento di poter avere un'attività istruttoria che avalli questa richiesta anche in questo caso purtroppo c'è stato detto di no grazie grazie per questo intervento la mia impressione avendola ascoltata è che se la proposta di legge del Parlamento Casa di Vetro resta attaccata alla riforma complessiva del regolamento della Camera non passa mai in questo clima o sbaglio allora l'approvazione di una riforma regolamentare è disciplinata in via di prassi diciamo a livello parlamentare nel senso che non è una vera proposta di legge con emendamenti ma in aula si portano avanti linee emendative di conseguenza come si arriva in aula si arriva in aula per argomenti blocchi di articoli o se di portata importante anche singoli articoli vengono votati possono esserci delle linee emendative che la giunta per il regolamento recepisce e porta in giunta e trasforma in modifiche del regolamento quindi la parte relativa alla trasparenza e alla certificazione dei lavori dei parlamentari se fosse scorporata potrebbe passare quello che mi dispiace molto dire è che in un quadro come ho cercato di spiegare spero di essere stato più o meno chiaro anche un ottenimento così importante che dall'altra parte porta ad uno zittimento totale dell'opposizione e un trasferimento totale della funzione legislativa dal Parlamento non alla maggioranza ma al governo purtroppo avrebbe una valenza molto limitata nonostante ciò ovviamente non significa che noi non si porti avanti questa importante battaglia il sollicito che faccio a voi è voi avete di fronte un membro della giunta che porterà che ha già fatto e che continua a portare seriamente questa proposta che da altre parti politiche non si tratti solo di una firma diciamo poco appoggiata da una volontà reale di portarla avanti grazie